La viticoltura di Borgogna è molto cambiata in questi ultimi anni con le nuove generazioni di viticoltori. I nuovi vini sono più fini, sono comunque vini che invecchiano bene, con tannini più eleganti, si va verso vini da consumarsi più velocemente, c'è la necessità di bere grandi vini senza attendere vent'anni. La nuova viticoltura è più ragionata, c'è maggiore attenzione per il lavoro del suolo, per rispettare al massimo il terroir. Il terroir fa parte del vino, è l'anima del vino. Un problema al centro del dibattito tra i produttori di Borgogna è la flavescenza dorata. Potremmo essere obbligati in futuro ad usare insetticidi sulla totalità della Borgogna, cosa che in alcuni comuni, a causa del clima, hanno già fatto. C'è poi il problema della nuova drosofila, la drosofila Suzuki, che depone le uova nell'uva e per debellarla occorre trattare i grappoli. I grappoli infestati dalla drosofila non possono essere usati per la vinificazione e nel 2014 alcune vigne hanno avuto il 50% delle vite rovinate. Quindi la viticoltura di Borgogna oggi ha molte questioni aperte, ma abbiamo dei validi tecnici vinicoli che ci danno una grossa mano e speriamo di risolvere questi problemi in futuro. Volendo parlare dei punti di forza e delle criticità dei vini italiani, devo dire che non sono un profondo conoscitore di questi vini, ma ero convinto che fossero molto potenti, con una gran carica alcolica. In realtà ho assaggiato vini molto freschi e dotati di grande finezza. Una bellissima sorpresa in netto contrasto con l'idea che avevo dei vini italiani.